Eccoci qua ragazzi perché dobbiamo assolutamente parlare di Juventus-Villa Real. Lo so, lo so, manca ancora un po' di tempo, però la partita ormai è nell'aria e quindi cerchiamo di capire come la Juventus arriva a questo appuntamento col Villareal. Cerchiamo di capire in stagione qual è stato il suo momento migliore per capire se effettivamente potrebbe addirittura combaciare con questo e aumentare le possibilità di passaggio del turno. Sono curioso di sapere anche le vostre opinioni prima di mostrarvi tutti i dati e sviscerare quello che è stato un viaggio all'interno della stagione della Juventus. Voglio sapere, secondo voi, qual è stato in assoluto il miglior momento della Juve e ancora quali sono le vostre sensazioni per la partita col Villareal, la partita di ritorno di Champions. Secondo voi ce la possiamo fare oppure no? Cercherò di darvi la mia opinione anche basandomi su questi dati, questi numeri che sono riuscito ad andare ad estrapolare. Prima di tutto ragazzi c'è OneFootball da scaricare, link qui sotto in descrizione perché Allegri che è incazzato, vedete qua è arrabbiatissimo, sta cercando di capire chi può convocare e chi no, sta cercando di capire a che ora è la sua conferenza stampa domani che andremo a commentare tutti insieme a che ora parte l'autobus che lo va a prendere, lo porta allo stadio mercoledì, quindi scaricate OneFootball, il link è qui sotto in descrizione. Fatelo perché se no se Allegri si arrabbia, lo sapete, Allegri è il diavolo perché vedendo un po' tutti i risultati delle altre, quello che sta facendo la Juve, Allegri per forza di cose, è un essere demoniaco, si avvale di magia nera se non tutto ciò non si spiega. Ancora una volta la Champions, mercoledì c'è il Villareal, tra due settimane giochiamo il playoff per il Mondiale, tra tre ci sarà Juventus-Inter, chi li regge questi giorni calcisticamente parlando? E dato che dell'Inter abbiamo già parlato, del Mondiale parleremo, concentriamoci su quella lì, su quella Coppa lì, che non mi sogno di vincere nemmeno, non me lo sogno neanche di vincere quest'anno perché so che sarà complicatissima se non impossibile, però arrivare almeno nelle prime otto sarebbe veramente figo. Cerchiamo di capire quella che è stata la stagione della Juventus, partenza disastrosa, un punto nelle prime due, due punti nelle prime quattro, infatti diciottesima posizione, zona retrocessione per la Juventus, praticamente penultima in classifica pari punti con il Cagliari. A fine settembre riusciamo a fare almeno otto punti che ci portano a metà classifica, decima posizione, questo è il nostro inizio di campionato. I mesi di agosto e settembre sono traumatici per la Juventus, che riuscirà a fare due vittorie, Spezia e Sampdoria, entrambe per 3-2, quindi vittorie anche abbastanza sofferte, diciamo così. Però la Juve inizia una lenta, lentissima risalita e a fine settembre è soltanto al decimo posto in Serie A, quindi settembre, ottobre, messe, vabbè, agosto e settembre sicuramente non sono stati i mesi migliori per la Juve. Anche ottobre però non sorride i bianconeri, che dopo aver ricominciato a vincere qualche partita, crollano effettivamente alla fine del mese. Halloween per la Juve sarà terrificante tra Sassuolo e Verona, quella settimana che ho evidenziato anche nel video in cui parlavamo dell'Inter. Continuiamo a galleggiare intorno al decimo posto, infatti la Juventus dopo 15 partite, dopo 11 partite scusate, 15 punti, sarà nona in Serie A. Si vince col Torino, si vince con la Roma, si pareggia con l'Inter a San Siro, e per quelle due partite lì, Sassuolo e Verona, ragazzi, quella settimana lì, quella settimana lì, quella settimana lì. È una settimana che va accettata perché fa parte della stagione, però è una settimana horror. Sotto Halloween è proprio una settimana horror per la Juve. A novembre invece finalmente si inizia a trovare una certa continuità dei risultati, cosa che era mancata fino a quel punto della stagione. Saranno 9 punti su 12 disponibili, l'unica sconfitta però sarà pesante, cioè l'Atalanta vincerà l'Iventus Stadium, portandosi appunto avanti nella corsa Champions. La Juve risale addirittura al settimo posto, c'è una nota positiva, cioè soltanto un gol subito in tutto il mese, ed è proprio l'1-0 dell'Atalanta che va a vincere allo Stadium, proprio l'1-0 di Duvain Japata. Quindi vittoria con la Fiorentina, vittoria con la Lazio, vittoria con la Salernitana, che non è scontato perché è il nostro prossimo avversario, sconfitta con l'Atalanta per 1-0, la Juve capisce che non è più così impossibile, ma sicuramente non sarà facile perché le altre non stanno mollando e appunto perde anche lo scontro diretto con l'Atalanta. Dicembre, invece dicembre in sé è un mese positivo per Allegri, ben 10 punti su 12 disponibili, due punti li abbiamo lasciati a Venezia, e anche quel paregino lì di Venezia, quei due punti lì di Venezia, eh ragazzi, vanno accettati però, sono cose che stanno qui come i due di Udine, come la settimana Sassuolo-Ellas, che ci possiamo fare? Ancora un gol subito in tutto il mese, a ramo per l'1-1, eh, per lasciare due punti indietro, quindi due gol subiti in due mesi per la Juve tra novembre e dicembre, il giorno d'andata si chiude con la Juventus a meno 4, meno 4 punti dalla zona Champions, che fino a qualche mese prima, settimana prima, giorno prima, sembrava utopia, e infatti la Juventus è quinta al termine del giorno d'andata, e ricorderete che abbiamo anche un po' tirato tutte le somme. Poi cosa succede? Gennaio è complicato, perché ci sono delle partite da calendario molto delicate. Finiremo con il collezionare 8 punti su 12, ovviamente grazie all'increibile rimonta a Roma contro la magica di Giuseppe Mourinho. Dopo Mila-Juventus 0-0, e 0-0 ti rimporta a San Siro, arrivano Vlaovic e Zaccaria, quindi cambia la Juve. La Juve rimane quinta all'interno del mese di gennaio, ma un solo punto dall'Atalanta, che ha una partita in meno, ma con la Juve che si toglie delle partite complicate, come appunto Napoli, Roma e Milan. Fare 8 punti in questo mese di gennaio non è assolutamente male, e la Juve inizia a proiettarsi molto vicino al quarto posto. Poi cosa succede? Che febbraio è il mese della nuova Juventus, quella post-mercato. Saranno ancora 8 punti su 12, ma l'Atalanta inizierà a perdere qualche colpo. La Juventus è finalmente quarta, la Dea ha sempre una partita in meno, quindi la può raggiungere. Però febbraio, direi che l'abbiamo giocato abbastanza bene, con 3-3-6-2-8 punti, insomma, poteva andare meglio. Sì, derby col Toro è un'altra di quelle partite che sta lì, quella con l'Atalanta è un'altra partita di quelle fatta bene, però ha finito nella casa con un solo punto, e all'ultimo secondo meno male che ha fatto il gol Danilo. Si poteva far meglio? Sì, certo, c'è sempre la possibilità di far meglio. Però capite che iniziano ad essere situazioni abbastanza positive per la Juve, l'abbiamo visto come siamo partiti, e abbiamo visto che è stata una montagna russa. Ve lo farò vedere ancora di più. Dopo Villareal, quindi la partita dopo mercoledì, ci sarà la Salernitana per l'ultima in Serie A di marzo. Attenzione, perché con quella vittoria, con un'eventuale vittoria, andiamo a rischiare di fare 9 su 9, 9 punti in Serie A a marzo, 9 punti conquistati, sarebbe molto bello, è abbastanza necessario farlo. Ora la Juventus è incredibilmente stabilmente quarta, e potrebbe addirittura provare ad agganciare l'Inter il 3 di aprile. Ripeto, c'era battere la Salernitana, e ripeto, prima c'è la Champions. Però marzo per adesso, due partite, 6 punti conquistati, la Juventus è quarta, anche se l'Atalanta vince il recupero, per il momento, per cui si era messa, molto molto bene, e c'è Villareal da superare, e poi la Salernitana. E poi si può sognare, sperare, pensare all'Inter. da quando Allegri è arrivato alla Juve, ecco le classifiche finali di Serie A, con punti e medie. Nel Milan di quest'anno, contiamo ovviamente le 29 giornate a cui siamo arrivati in questo istante. Prendiamo come quota Scudetto, quella attuale del Milan, che è 2,17, visto che il Milan oggi sarebbe appunto campione. Qua ci sono tutte le medie finali, medie punti finali, delle squadre che hanno vinto lo Scudetto. Per darci un'idea, capire queste Juventus, nei mesi, a seconda dei mesi, quanti punti effettivamente ha fatto in Serie A. Cerchiamo di darci un'idea, tenendo conto che il Milan è a quota 2,17 in questo istante. 63 punti in 29 giornate di campionato. Vi risparmio questi calcoli, queste schermate di calcolo, per esempio, e vi aggiungo alcune tabelle che ho ottenuto off-panel, perché non vi interessano, sono quelli in rente alla Champions, alla Coppa Italia, alla Supercoppa, quindi tutte le altre competizioni. Mettiamo tutti in un calderone unico, provo a riassumervi il tutto così. Questa è solo la Serie A, poi arriveremo a parlare di tutte le competizioni. Ad agosto abbiamo avuto una media di punti di 0,5, fantastico. A settembre di 1,75, ad ottobre di 1,4. Poi iniziamo finalmente a metterci a posto. Novembre 2,25, dicembre 2,5, gennaio 2, febbraio 2, per il momento marzo addirittura 3. Cosa significa? Che 2,17 era la media punti del Milan, no? Fino a questo punto il Milan ha fatto 2,17 ogni partita. Significa che da novembre in poi, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, la Juventus è stata al di sopra della quota scudetto che sta portando avanti il Milan. È ovvio che ci siamo rovinati guardando questa tabella tra agosto e settembre. Poi è ovvio che qualche pareggio, qualche risultato che proprio non ci andava giù, ci sta nel frattempo. Però se diamo un'occhiata alla media punti, notiamo che la Juve, il suo massimo, l'aveva fatto in dicembre, con 2,5 di punti a partita, anche seguendo un calendario abbastanza abbordabile. Gennaio, nonostante un calendario difficile, due punti a partita, adesso a marzo siamo a tre, perché in Serie A abbiamo vinte tutte. Quindi per forza di cose, se ci basiamo solo sulla media punti aritmetica della Serie A, questo è il momento migliore per andare ad affrontare il Villarreal. Ma cerchiamo di inserire anche le altre partite che ci sono state durante i mesi, quindi la Coppa Italia, la Supercoppa e la Champions League, e vediamo la media punti della Juventus sempre tenendo in considerazione la vittoria a tre punti, il pareggio a un punto, la sconfitta a zero, come ben sappiamo. E questo è. Quindi settembre viene un pochino sollevato dalla Champions, dalle due partite di Champions, due che abbiamo vinto, tra l'altro una con il Chelsea. Vediamo che ottobre invece viene un po' giù, perché c'è stata anche la sconfitta con il Chelsea, appunto con il 4-0. Purtroppo è successo anche questo. E vediamo che in realtà dicembre è il mese fantastico e marzo ancora è il mese perfetto, perché la partita di Coppa Italia che abbiamo fatto, l'1-0 sulla Fiorentina, ha avuto gol di venuto all'ultimo secondo, ci dà la dimensione che le tre partite giocate in marzo fino ad adesso sono state da tre punti tutte e tre. Quindi vediamo che la Juventus, bene o male, si è rovinata all'inizio. Ma questa non lo impariamo certo oggi, perché poi in realtà ha tenuto una media, un andamento abbastanza lineare nel tempo, non è andata male. Chiudiamo con Guardiola. Chiudiamo con Guardiola, e voi direte cosa c'entra Guardiola? perché fino a questo punto vi ho fatto capire che in realtà non è un brutto periodo per la Juventus, questo non è il momento peggiore per affrontare una gara e eliminazione diretta in Champions League, anzi, secondo le statistiche, questo è il momento migliore dell'anno per la Juventus. Ma Guardiola l'altro giorno in conferenza stampa ha detto una cosa molto interessante, e cioè che il calcio non riesci a inquadrarlo, limitarlo, rinchiuderlo all'interno di numeri. Ci sono dei numeri che non vengono presi in considerazione nelle analisi perché non possono entrare all'interno di alcuni giocatori che ti danno qualcosa in campo che non riesce ad essere scritto sotto forma di statistica o di numero puro. Il calcio è bello, come qualsiasi altro sport, io mi concentro sul calcio perché questo conosco un po' più nel dettaglio, proprio perché è imprevedibile. è perché matematicamente è impossibile capire che cosa succederà perché ci sono troppe variabili. E quindi, sì, è un momento buono per la Juve, ma non limitiamoci solo ai numeri, perché non porta bene e sicuramente non ti dà la conferma al 100%. Possiamo assolutamente pensare che questo è un buon, ottimo momento per la Juve per andare ad affrontare, secondo lo stato di forma di tutta la stagione, una sfida di eliminazione diretta, ma Guardiola, che penso sia uno degli allenatori più bravi in circolazione, se non il più bravo in assoluto, te lo dice lui per primo, attenzione che il calcio non è solo numeri, non è solo statistiche, non è solo questo. Il calcio è molto altro, è molto di più e si decide tutto sul campo. Quindi spero di dare tutto sul campo fino alla fine. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete notato alcune curiosità, se alcune cose le sapevate, se siete rimasti sorpresi anche da questo percorso della Juventus. Ho cercato di riassumere la stagione della Juve nel minor tempo possibile, 13 minuti circa, direi di essere stato molto bravo.